ok ciao ben ritrovati argomento del giorno come mai ritengo il game pass game pass game pass geniale una delle più grandi genialate degli ultimi anni e l'arma che permetterà a microsoft di sopravvivere a una console war che era praticamente già persa è già persa in questa generazione di console e che non cambierà nella prossima probabilmente perché sony con la sua ps5 ha ormai consolidato un modello che è molto difficile da da attaccare e nintendo a il sozzoccolo duro e sappiamo tutti che quando usciranno i suoi delle sue punte di serie che necessitano sempre di molto tempo piaceranno a tutti perché così e siccome nintendo fa cose uniche che fa solo lei è impossibile combatterla nel suo campo quindi ci sono poche speranze per microsoft di essere competitiva a livello di vendite console se paragonata alla concorrenza però a loro l'avendolo già capito in questa generazione hanno cominciato a lavorare su altre cose e adesso vi dirò dov'è il colpo di genio che potrebbe veramente ribaltare la situazione magari non gli farà vincere la console war ma renderà microsoft una realtà piuttosto pesante nel mondo dei videogiochi perché loro hanno cominciato appunto a lavorare sui servizi hanno creato il game pass che anche io quando lo spingevo mi prendevano in giro mi usavano mi sfottevano non riuscendo a capire la genialità di questo servizio sono stati pionieri in un certo senso rifacendosi altri modelli come netflix come tutto il digital delivery on demand l'hanno proiettato nei videogiochi e quindi hanno cominciato a fare questo esperimento di creare un set di giochi liberamente scaricabili pagando un abbonamento di circa 10 euro adesso c'è l'altime che costa di più e include anche il gold ma il game pass nudo e crudo costa 10 euro il mese quindi pagando 10 euro il mese si scarica tutti i giochi inclusi in un set predefinito quindi praticamente microsoft nel game pass include tutti ovviamente questo questo bacino di giochi e variabile li possono togliere e mettere repository dinamica i giochi microsoft ci finiscono tutti ci rimangono praticamente tutti quindi tutti i first party finiscono fin dal lancio sono disponibili net 7 quindi alo forza tutti i i franchise microsoft sono lì pronti a essere scaricabili in qualsiasi momento pagando ovviamente l'abbonamento mentre le terze parti ci sono degli accordi ci sono degli accordi che quasi sempre sono a tempo determinato cioè tipo pubblici e come capcom danno david me l'ultimo capitolo di devil may cry per game pass per un anno dopo un anno viene ritirato questo perché perché per l'azienda è una grandissima pubblicità per i prodotti che magari hanno sono più deboli a livello retail cioè se è chiaro che capcom fa un nuovo resident evil e le vendite vanno molto bene che se il digitale è difficile che lo andranno a mettere nel game pass ma se le vendite non sono un granché e il prodotto è destinato a finire magari né in scontistica e facendo rimettere l'azienda possono decidere di prendere accordo con microsoft e di inserire il gioco nel game pass per il periodo che vogliono loro e per tutto questo periodo che il gioco è incluso l'utente oltre a poterlo scaricare liberamente e giocarlo per tutto il tempo che ha il game pass può decidere di acquistare il gioco con uno sconto del 10 per cento quindi rispetto a chi se lo sempre digitale ovviamente confrontato a chi lo compra lo acquista nello store a prezzo pieno chi ha un game pass e vuole tenere il gioco per sempre a 10 per cento di sconto lo acquista quel punto gioco è tuo per sempre non te lo toglierà più nessuno anche se viene rimosso dal game pass perché gli accordi con il pubblico sono terminati tu hai nel tuo storico il gioco lo può scaricare per sempre quindi è tuo per sempre come l'avete che l'hai acquistato a tutti gli effetti del tuo quindi veramente uno spettro ampio di scelte si può scegliere se se fare passi solo per giocare senza acquistare niente o sfruttarlo per avere degli sconti sui giochi che interessano è chiaro se tu vuoi fare un'avventura non so un red dead redemption per esempio due che hanno messo aggiunto da poco tu hai calcolato che lo finirai in due mesi dico così un valore a caso tu paghi due mesi di game pass ti costa 20 euro e con venti ero tu hai giocato red dead redemption se poi lo tolgono tu l'hai già giocato non ce l'hai fisicamente però tu hai giocato tutto il gioco a 20 euro se poi invece lo vuoi per giocare online per altre modalità lo vuoi tenere per sempre allora lo acquisti con lo sconto quindi tante scelte per l'utente in base all'interesse dell'utente per il prodotto quindi è fantastico tutto questo comparto del game pass senza contare che chi è mediamente interessato magari vuole solo giocare ma non è interessato ad acquistare nulla e vuole solo giocare innanzitutto con i prodotti first party non c'è nessun problema quindi sia of tips e forza yellow tutti i franchise microsoft se tu li vuoi giocare basta che che paghi due impasse mensile e c'era il sempre solo questi ti potrebbero riempire anni e anni di gioco e anche tutti i nuovi titoli che hanno presentato anche all xbox game showcase saranno tutti inclusi nel game pass quindi veramente ci credono ci credono ormai fa parte del loro programma ma non solo perché adesso arrivo al punto perché è geniale oltre a offrirvi un tipo di servizio innovativo che finalmente ci liberiamo anche dell'obbligo e non dico che devono morire ma una questione di scelte ci liberiamo dall'obbligo dei retailer che dobbiamo acquistare gioco determinati luoghi dobbiamo sottostare a determinate condizioni libertà di scelta io se non voglio andare nei negozi e voglio acquistare in digital o non voglio acquistare voglio solo giocare pago l'abbonamento lo posso fare quindi basta col monopolio di un certo tipo di distribuzione quello deve morire e quella è una delle cose più belle che ha fatto macrosoft secondo me ha veramente dato agli utenti nuove possibilità e questa cosa non può essere e non può essere isolata perché verrà seguita verrà seguita prima o poi questo modello farà d'apepista anche agli altri ovviamente dipende in base alla loro politica per esempio sony ha bisogno di vendere console perché è questa il suo sostentamento si basa sul vendere le console non ha servizi non ha un bacino come a microsoft e arriverò anche a questo punto perché importante deve imporre una console per ogni generazione altrimenti muore sony non può fare altro quindi le auguriamo anche di di proseguire così perché sennò ragazzi sony muore e microsoft non morirà mai perché ha una tela di emergenza enorme che è rappresentata da tutto il bacino pc windows di office di office non moriranno mai e come ho detto in un altro video nella peggiore delle ipotesi possono chiudere la divisione xbox e basta senza comunque ritirarsi dal mercato videogames ma non lo faranno adesso che hanno sono riusciti ad affermare e questo servizio loro non usciranno mai ve lo assicuro io lo dice il tarish non usciranno mai perché loro hanno fatto con questa cosa qui e tanti ancora non se ne rendono conto stanno ancora a fa console quante macchine vendono non hanno capito non hanno capito cosa ha fatto microsoft con questo servizio l'ha trasformato in una piattaforma l'ha trasformato in una piattaforma anche adesso stiamo a parlare in questi giorni dell'xbox rx del support xbox one se c'è non c'è ma non importa non importa perché loro hanno creato una piattaforma questo set di giochi del game pass è disponibile per gli utenti xbox per gli utenti che acquisteranno la nuova xbox per tutto il bacino pc che è sconfinato quando loro si sono aperte le porte e sono stati presi in giro presi a pomodorate manca poco perché loro aprivano il mercato anche al pc e dicevano che i pc sono tutti pirati che non acquisteranno mai niente che non gliene può fregare di meno di pagare un abbonamento quando si comprano tutti i giochi pirata non è vero ma chi li compra più giochi pirata ma chi li compra più che ti devi connettere anche per fare un salvataggio ma ti farebbero fuori subito ma chi li prende più i prodotti pirata ma poi con il costo che hanno queste cose tu puoi prendere in scontistica un gioco a tre euro ma chi te lo fa fare di rischiare quando è tutto anche legata alla tua tag tag che vale più della sua casa manca poco ma chi la vuole perdere la sua identità l'identità online multiplayer ma chi vuole mandare tutto a fragole per scaricarsi un giochino pirata ma non lo fa più nessuno chiunque può affrontare una spesa di 10 euro al mese in questo mese giocarsi quello che vuole di questo set di giochi quindi loro l'hanno vista giustissima a voler intaccare anche il mercato pc perché ogni pc è una piattaforma è una console valida profittevole per game pass anche uno schifo di 486 montato con due lire un mini pc una qualsiasi schifezza che abbia windows 10 è una piattaforma una potenziale console e piattaforma per microsoft quindi c'è poco da sfottere sotto questo punto di vista perché loro l'hanno vista giusta e adesso arrivo al punto qui non mi dilungo troppo il punto chiave che ancora loro non hanno parlato stava zitti zitti non fiatano su questo punto qui perché lo so che cosa vogliono fare l'ultimo tassello sarà quello dei mobile perché loro vogliono imporre quelli game pass anche sui mobile con l'ex cloud tu giocherai i giochi sul tuo telefonino che ormai è più potente di un computer loro vogliono questo mercato e questo mercato qui davvero lo possono colpire in pieno con una sigurata senza che la concorrenza possa dire la sua se non fanno anche loro perché sony è troppo ossessionata nel vendere le sue console magari interessa che gli interessa solo questo nintendo ha già la sua soluzione ibrida rappresentata dallo switch importabilità e in uso quindi non ne fega microsoft non ha una console portatile e la sua console portatile saranno i milioni i miliardi di telefonini tutto il mondo quindi quando loro arrivano lì tutti i telefonini diventeranno potenziali console quindi quindi loro stanno zitti per ora non lo so che cosa vogliamo combinare sul mobile e lo vedremo probabilmente nei prossimi mesi ricordate poi tra l'altro che agosto ci sarà un altro evento games showcase quindi molto curioso di vedere che cosa tireranno fuori e che cosa anche faranno conto tutte le polemiche che ha suscitato il filmato dialogo graficamente una persona detto questo ragazzi vi saluto il game pass è geniale ciao ciao